Siamo in quel di New York, faremo un'esperienza incredibile Tommy. Stiamo per fare un video brutto. Fermi tutti, contestualizziamo. Non è uno Scafati Vlog come avete visto. Due anni fa sono andato con Matteo Marchi a New York, anzi da Matteo Marchi a New York e abbiamo fatto il giro dell'elicottero, ho recuperato tutti i vecchi video da un hard disk e ho deciso di montarli. Forse li avevo già montati ma in una maniera indegna, quindi ho deciso di rimontarli e ci ho fatto un video. È un po' un intramezzo fra i vari vlog. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è un bel modo per supportare questo progetto YouTube. E niente, ci vediamo alla fine del video. Ciao ragazzi. Mettiamo le mani avanti, però siccome si vola con l'elicottero sopra New York una volta solo nella vita, o se sei ricco di più, andremo a fare un volo sopra New York City in elicottero. Siamo very excited. Adesso ci stiamo preparando, stiamo firmando tutti i documenti. Io ho firmato un testamento dove ho lasciato tutti i miei averi a Tommy. Tommy ha fatto un testamento dove ho lasciato tutti i suoi averi a me, quindi se moriamo niente rimane a nessuno. Si parte. Pulmino, eliporto, aeroporto, quel che è. Decollo. Stay tuned. Scusate. Stay tuned. Ed eccoci qui a bordo, siamo già a spartiti. Secondo me fra un quarto d'ora ci staremo cagando adosso in una maniera clamorosa. Clamorosa. Guardate che bel ragazzo. Ed eccoci qui con il nostro inviato di fiducia, Tommy Marino. Sono veramente belli. Sta morendo, non credo che andremo in elicottero, questo video è finito. 20 minuti in macchina, 50 metri nel corso. Come è stato il viaggio? Delicato? Delicato. Da qua ci paracaduteranno nella ionosfera. Siamo pronti a salire? Forza! Forza chi? Forza 4. Se non mi mettono nel sedile al lato, spacco tutto. Non andava. Però... Io sono troppo vicino, ti riesco a fare una sega. Siamo strappini. Non andava. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi lascio due informazioni perché so che poi me le chiederete tra Instagram e commenti. Che eravamo a New York da 15 giorni, avevamo già speso parecchio. Il volo del 6 per 6 non costa tantissimo, costa tipo 400 dollari e ci sono sempre degli sconti. Quindi è una cosa fattibile anche perché è veramente un'esperienza incredibile e sulle esperienze non si risparmia. Vi lascio un po' di foto di Matteo Marchi che ha fatto dall'elicottero. Matteo è un fotografo che fa delle foto molto fighe, quindi vi lascio le foto. Se non siete iscritti al canale fatelo ora. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi. Ciao. Ciao.